Lo scenario che si era delineato ad inizio anno prospettava dopo il forte recupero del 2021 un proseguimento dal percorso di crescita su livelli inferiori ma comunque più elevati di quelli pre-pandemia. Il quadro purtroppo è invece cambiato con lo scoppio della guerra in Ucraina, che porta con sé forti ricadute sull'andamento dell'economia e del commercio mondiale. Così il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, commenta i dati di Prometeia, una delle più importanti società europee di consulenza e ricerca economica, che ha elaborato alcune stime sul consultivo economico 2021 e delle previsioni per il 2022 relative ai principali indicatori economici della provincia. I settori sui quali nel 2020 si erano scaricati gli effetti più pesanti dell'emergenza pandemica prosegue erano stati industria, agricoltura e terziario. Gli stessi settori dovrebbero avere un recupero quasi proporzionale nel 2021, un caso a parte quello delle costruzioni, che dovrebbe crescere addirittura del 21,4% sulla spinta delle varie misure di incentivazione e entrate a regime. Le stime per il 2022 mostrano invece alcune difficoltà per il settore industriale, per il quale si prevede una flessione del valore aggiunto dell'1,2%. L'elaborazione dei dati evidenzia il segretario generale dell'ente camerale Marco Randellini, ci permette anche di prevedere un plausibile andamento del nostro export. A fronte di una flessione nel 2021 del 9,5%, le previsioni per i periodi successivi sono caratterizzate dal segno positivo. Per quanto riguarda infine i dati relativi all'andamento demografico delle imprese iscritte al registro, nel periodo gennaio-marzo 2022 sono state registrate in provincia 563 iscrizioni di nuove attività economiche, in linea con il dato dello scorso anno e 640 cessazioni, anche in questo caso grossomodo sugli stessi livelli del 2021.